Riscaldamento prima di una buona e sana camminata veloce. Cerchi con le ginocchia per mobilizzare le anche almeno 10 volte alternando gamba destra e gamba sinistra. Sempre per 10 volte dei mezzi squat. Fletto leggermente in avanti la schiena e porto indietro i glutei. Ti ricordo di respirare sempre durante tutti gli esercizi di riscaldamento. Il circuito che stai vedendo è da ripetere due volte almeno prima di iniziare a camminare. Torsioni del busto sempre una decina di volte con le mani dietro la nuca senza spingere con le mani sulla testa. Respira. Inclinazione a destra e a sinistra sempre con le mani dietro la testa. Circuito da ripetere due volte dopodiché sarai pronto o pronta per affrontare la tua camminata veloce con il corpo riscaldato e pronto. Eccoci alla circonduzione delle spalle, ai giri, 5 in un senso e 5 nell'altro. Sei quasi pronto? Ok, puoi partire.